VICINO AL TRATTORE SULLA DESTRA! Sto guidando! Beccato! Ti lascerò cadere da che manca via! Dovranno fare di meglio se ci vogliono rallentare! Portaci fuori di qui! Troppo tanti, capiamo! Crederemo come via! Ma se pensa che lascerò voce di vede dal mio agente di spaglia di grosso? Occhie aperti! Altri soldati più avanti! Merda! Hanno chiuso la strada! Non fermiamoci qui, siamo troppo scoperti! Posso passarci attraverso, ma dovete tenervi lontano! Tronto, beccato! Siamo quasi passati! Eh sì! Tenetevi forte! Non lo sto dando in camion! Prima di giù, cazzo! Poker, ambi in avvicinamento rapido da destra! Non è tutto! Attenzione! Cazzo! Ludo, potenzione! Tutto elicoppera! E c'è uno! Bombi è mio! Elicoppera è richiata! Buon malta! Tenetevi, facciamo una deviazione! È un vicolo cieco! C'è ben trappato! Mi avevo detto che l'avrete maniata, Wolkia! Non si riprenderà, ma posti quello che costa! Non mi ingozione da Gale! Oh, il figlio di putzana! Fra quattro giorni, questa città inizierà a morire di sete. Proprio come voleva Riggs. È colpa sua, Wolkia. Lei, ha causato tutto questo. Non io. Non mi dà le palle. Farà tutto bene. Ecco, bravo. Continua a capire. Ehi, un po' d'aiuto qui. Mi sento parlare, bastardi. Rix, sei tu? A questa parte. Rix? Dove sei? Non vedo un cazzo. Oh, merda. Tieni duro. Ti tirerò fuori da lì. Lascia stare. Non importa. L'acqua è andata. Ecco cosa importa. Cazzo. Non è così che doveva finire. Aveva ragione, sott'idea. Senti, se si scoprisse cosa ha fatto, l'intera regione ci dichiarerebbe guerra. E perderemmo. Ora, nessuno lo saprà mai. Sei pazzo. Che strano. Gould ha detto la stessa cosa. Ciò che ho fatto non era bello. Ma era giusto. Tra l'altro, non è che me ne stia andando da qui. Non lasciarmi bruciare. Avanti, Walker. Fallo. Ti prego. Perché te ne stai lì così? Coraggio. Aspetta. Dove Dio ve lo stai andando? Walker. 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 Walker, rispondi. Sì. Eccomi. Grazie a Dio. Il trentatresimo è arrivato prima che ti trovassimo. Siamo scappati. Pensavamo che non ce l'avessi fatta. Ho avuto fortuna. Riggs. Morto. Bene. No, non va bene. Ti ha fregato. Ho fregato tutti. Grazie a lui a Dubai saranno tutti morti entro pochi giorni. La città deve essere evacuata subito. Già, mi piacerebbe sapere come ha intenzione di fare. Lugo. Oh, colpa mia. Interrompo qualcosa. Dannazione. Vieni duro, Lugo. Arrivo. Farò in modo che abbia il messaggio. Vai a fare in culo. Calma, calma. Non diciamo parolacce, amico. Questo, dopo tutto, è un programma destinato a tutti. Come tutti hanno sete. Tutte le unità al centro commerciale. I denti sono bloccati all'interno. Muoversi. Merda! Soldati dall'alto! Arrivoro! Oh, non suona molto bene, Marty. Non essere timido. Siamo solo tu, io e qualche migliaio di ascoltatori accettati. E moriamo tutti dalla voglia di sapere. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? Yeah, Marty gonna die when they come for you. Wanting water and buckets and things like tools. What you gonna do when they come for you? Marti, marti, marti. Due. È finita, tenente. Metta giù l'arma e il sergente Lugo vibrà. Non ascoltarli! Ho detto silenzio! Walker, se riesci a sentirmi. Hanno preso Lugo. Il trentatresimo mi ha inchiodato. Non riesco a raggiungerlo. Mi servi qui, ora! Riesci a sentirmi, tenente? Non sto scherzando. Si arrenda subito o il sergente Lugo... Peccato un altro! Era ora che arrivassi. Sto ricaricolando. Non c'è di che... Forze nemici di avvicinamento! C'è chi lo solleve? Non lo dimentico! Attenzione! Non lo dimentico in arrivo! Siamo sotto fuoco pesante! Oh, dannazione! Noi siamo a posto. E tu? Tutto a posto anche qui. Attenzione, uomini del trentatresimo! Pupazzetti della Delta Force in saldo! Ripeto, Delta Force è disponibile al centro commerciale! Ne arrivano altri! Dobbiamo sistemare questo tizio! Prima dobbiamo uscire dal centro! Vedete un modo per attraversarlo? Non da questa parte! Forse più in là! Ok, allora, eliminate questi trossi! Peccato! Merda! Mi serve copertura qui! Merda! Mi serve copertura qui! Che hanno bloccato qui? Indietro ci pensiamo noi! Rimani giù, cazzo! Non vi aggattare! Muoviamoci allora! Sto uscendo! Nemici sulla destra! Walker, un po' di aiuto qui! Altri nemici al negozio di giocattoli! Allora, ho una domanda per voi! Quali sono le otto parole che conoscete che fanno più paura? Siamo la Delta Force! Siamo qui per salvarvi! Sopra il patto! Adesso lasciamo in un uccellario! Mi fai battire! Cosa c'è? Non è divertente? Faffanculo! Sei tu quello che lavora per un criminale di guerra? Peccato un altro! E il fiocco fucile di arrivo! Faffanculo, tu! Non sapete un cazzo di cosa ha dovuto fare quell'uomo! E intendo... Sto rincaricando! ...pare! Poteva scegliere, come tutti quanti! Attento, sono andati nel rio da te! Ricordi il cancello! Cos'è questo odore? Sembra putta di bruciato, caro mio! Se ti metto le mani addosso, sei un uomo morto! Siamo ancora in gioco! Non è proprio a vedere i tocchialini! Vedi se hai modo di aggirarli? Ricevuto! Attento, non possiamo capire anche da qui! Nemico a terra! Cosa cazzo? A riparo! Dove sei? Mi prendi in giro? Ah, figlio! Non ho bisogno di queste cazzare! Stai fermo, dannazione! Walker, spiegati! Non occuparti! Mi sta pensando insostenibile qui! Attenso che ci sta lavorando! Peccato, figlio di puttana! In studio arrivano molte segnalazioni! Storto, peccato! Gli stronzi preferiti da tutti sono al centro commerciale! Si dice che stiano cercando di salvare altra gente! Si fanno voler bene! Grazie! Continueranno a provarci! Anche se così facendo vi uccideranno tutti! Fino all'ultimo! Assicuratevi di passare a ringraziarli! Sono stufo di questo stronzo! Da che distanza pensi trasmetta? Non lo so! Lo sentiamo da quando abbiamo superato il fronte! Perché? Merda! Don Datti! Dove sono? Sono tra di te! Presto! Siamo sotto fuoco pesante! Tenete duro! Ci sono! Finchio di puttana! Tronzo, peccato! Copritemi! Ricarico! Vai piano, Marty! Non vuoi rivelare la tua posizione! Non vuoi che gli altri vengano a sapere dove ti trovi! Voglio dire, l'ultima cosa che vuoi... E che gli altri fissi vengono a sapere dove sei! Voto a terra! Pronto, perfetto! Questa non l'avevi prevista, eh? Rimetti lui! Sei a posto, Adams! Ottimo! Vado a rimetterlo in piedi! Grazie, amico! Credo non ce ne siano più! Nessun problema! E arrivano altri! Su, cazzo! Ma quando finirà? No! Voi ragazzi mi impenerete! Ma poi ve la siete cercando, brutti! Mi stanno ammossando qui, Volker! Qual è il tuo fottuto piano? Fatevi strada fino all'ultimo piano! Potete usare l'avune per attraversare! Io vi copro da qui! Ora muovetemi! Non c'è modo di passare! Siamo bloccati! Non siamo bloccati! Volker, libera la zona sotto di noi! Ci caleremo con la torta! Uno in movimento! Beccato! Libera! Ora tocca a noi! Via! Via! Run! Guarda! L'aut운�o 교전에 lo ritornoide! In movimento ska! Ritorno che mussare! Uccellieri in movimento! Beccato un altro! Scala sul lato esterno! Ci muoviamo, comprici! Sono arrivato da dietro! Cazzo, Walker! Tiediceli lontani! Beccato! Gli stronzi hanno un pesante! Pesante in arrivo! La guerra! Sì, è un incidivo e tutto pesante! E arriva un altro! Puoversi! Cazzo, la porta è chiusa! Abbiamo qualcosa per farla saltare! È l'inigine di un bel RPG! Avrebbe bastare! Walker, fuoco di copertura! Porta aperta! Entriamo! Walker, non lasciare che ci seguano! Recevuto! Inboscata! Attenzione! Dobbiamo uscire da qui! Hanno bloccato la porta! Walker, serve un'uscita! Vai saltare la porta! Utteraggio delle calate! A porto! Voletemi! A porto! Cazzo! Guarda! Sotto molto pesante! RPG! Attenzione! Rimani giù, cazzo! Saliamo! Andiamo sul tetto! Caprici! CAPRATO! Cilinari in arrivo! Amico, in movimento! Anche in uscita è arrivata! In movimento! Dalla azione! Ci sono molte casse di munizioni! Mira bene! Tiro sbagliato e siamo pritti! Troppo sul tetto! Fallo fuori! Peccato un altro! Arrivo, Lugo! Via! Molti soldati sul tetto! Libero! Passiamo di là! Anche io, indietro! Levati dai piedi! Walker, spostati! Tutto ok? Va bene, non preoccuparti. Che mi dici di voi due? Sì, a posto. Sentito! Grazie! 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 Grazie!